10 5 4 3 2 1 vai vai al bianco tornante destro e subito tornante sinistro secco e occhio dopo saltino 30 e tantissimo la ringhiera tornante sinistro e poi la ringhiera destra 2 chiude secco gira 2 chiude secco gira e apre 4 e all'arrivo chiude 2 secco in due tempi non tagliare e subito il sinistro 3 secco non tagliare e poi lo spigolo destra 4 secco e addosso il sinistro 3 e finale chiude 2 secco gira 40 e tantissimo le frasche tornante destro tondo in due tempi non tagliare e poi la riva tornante sinistro e subito tornante destro tornante destro e poi la ringhiera stai a destra addosso e sinistro 3 non tagliare e subito il sinistro 4 e chiude 3 4 chiude 3 e occhio saltino e subito il sinistro 3 secco 3 secco e poi la casa apre 3 secco e poi al pietre sinistro 3 occhio saltino subito il sinistro 4 subito il sinistro e subito il sinistro 2 chiude se attenzione scende e subito il sinistro 3 in due tempi e poi dopo bianco destra 1 chiude secco sporca e subito il rail sinistro 2 chiude e apre 4 lunga e la casa è dottorato dritto e subito l'arrivo destra 2 chiude sporca 2 chiude sporca subito il sinistro 3 chiude e gira in due tempi secco alla fine subito il sinistro 4 lunga in due tempi e poi al verde chiude 2 e poi gira, buco interno, sporca, e vai, sinistra lunga, sotto il soffritto, e tantissimo da casa, chiude, chiude, uno, stringe, e sotto destra due, e tantissimo buco, mola, mola, stai a destra, e sotto tornante sinistro, e poi al palo destra due, chiude, uno, non tagliare, molto stretto, molto stretto, e poi apre tre, non tagliare, e sotto l'arancione, inversione sinistra, scalino, interno, e vai, cinquanta, vai tutto, vai, vai, e tantissimo rail, destra tre, chiude, chiude secca, subito sinistro quattro lunga, in destra, e subito sinistro quattro secca, e subito sinistro quattro secca, e sotto arriendo, sinistro tre, chiude secca, trenta, e la casa addosso, in destra quattro, e subito la siepe, sinistro tre, chiude, chiude secca, e apre 4 e la pianta chiude 4 e chiude 3 e su destra e sinistra 3 secca 3 secca e poi bidone e sinistra 3 chiude secca e su destra 2 chiude secca in 2 tempi e su terrei e sinistra 2 chiude secca e su destra 3 in 2 tempi e su terrei rosso sinistra 4 lunga fidati e poi al muro pietra subito sinistra 4 secca e destra sinistra e su 3 pietra e su destra 4 secca e la ringhiera bianca chiude 3 e poi al re chiude in tornante destro e vai al centro sinistro e al bianco sinistra 3 chiude e poi alle pietre apre 4 secco e la riva chiude 3 e su destra 3 chiude il centro sinistro e chiude in tornante sinistro secco alla fine e scivola e vai alla rivetta in destra 4 secco in sinistra 5 e su terrei e destra 3 chiude secca lunga e le fresche attentissimo destra 4 secca e su terrei e attentissimo e poi al bianco chiude 2 non tagliare e su terrei tornante destro secco alla fine tornante destro secco alla fine e apre 4 secca in 2 tempi e su terrei tornante sinistro non tagliare tornante sinistro non tagliare e apre 3 in destra sinistra 4 destra sinistro 4 e su terrei 4 lunga e su del muro sinistra 3 chiude secco tra 18 secco e su terrei destra 3 secco e accelga il sinistro e su terrei tentissimo da casa chiuso alla destra non tagliare vai 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 e vai 50 sinistra 4 lunga fine 441 bravo Paolo, è buono come tempo Paolo, è buono abbiamo preso 10 secondi da Lombardia eh sì, puttana troia, va bene, va bene ora freiamo poco, dovremmo aver fatto 4 e 41 tutti 5, guarda, guarda, 5, 5 4 e 56, 38 4 e 41 aspetta, aspetta l'altra bella, aspetta io Paolo, bravo, bravo, bravo io Paolo bravo, bravo bravo, bravo